Una piscina in Valsassina non è un sogno ma l'auspicio di alcuni amministratori che si sono rivolti alla locale comunità montana con l'idea di costruire un impianto natatorio per servire residenti e villeggianti. Prima di farsi prendere la mano dalla fantasia bisogna però fare i conti per questo motivo. La comunità montana ha pubblicato in questi giorni la procedura per la redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione e la gestione di una piscina in Valsassina. Un'iniziativa che secondo gli amministratori favorisce lo sviluppo sociale, la promozione della cultura del benessere e dell'attività sportiva e fisica oltre al ritorno per l'indotto anche di natura turistica che potrebbe derivare dalla costruzione di un impianto natatorio intercomunale. A farsi avanti sono stati i comuni d'Introbio e Prima Luna che nell'ambito di diversi incontri hanno promosso l'iniziativa e hanno espresso la volontà di realizzare una piscina che potesse diventare un punto di riferimento e di aggregazione a servizio dell'intera comunità valsassinese. Al di là dell'investimento iniziale, sottolinea Carlo Signorelli, presidente della comunità montana, è fondamentale per tutti i sindaci interessati sapere se un impianto natatorio in Valsassina ha mercato per trovare un gestore e per far fronte alle spese annuali di funzionamento con le entrate avendo in questo momento tutti gli enti problemi sulle spese correnti. Da qui l'idea di uno studio rigoroso a garanzia della piena fattibilità dell'operazione. Il bando per la redazione dello studio di fattibilità scadenza il prossimo 6 settembre ed è il secondo fondamentale passo verso un progetto certamente ambizioso ma di sicuro impatto per la popolazione di tutta la valsassina.